Tifosi di Giardossi, buonasera dallo Stadio Olimpico per questa grande sfida, la 173esima tra Roma e Juventus. Tutto pronto per una sfida molto delicata, molto sentita, come sempre molto importante. Qui invece il bel break da parte di Jordan Veretuker, ruba un gran pallone a centrocampo, prova ad accelerare, palla dentro. Il tentativo di tenerla a occhio, questo passaggio possibilità. Com'è il rigore questo? Questo è il calcio di rigore. Vediamo un po'. Calcio di rigore. Jordan Veretuker con il destro, parte il francese, la parata, ma la palla entra! 1-0 per noi! Jordan Veretuker, rava 1, Juventus 0! Nuovamente in azione, ancora Ronaldo, in al rigore. Ronaldo cerca la giocata, calcio di rigore. Parte Ronaldo, la conclusione con il destro, arriva il gol. Nell'1-1. Gulusevski, altro colpo di testa, Gulusevski da terra. Praticamente, ma qui possiamo distenderci nel contropiede con Mkhitaryan, che prova a partire. Attenzione da Mkhitaryan, grande pallone messo in mezzo. Possibilità di attenzione! Sì! 1-1! Di nuovo avanti! L'azione della rava strepitosa con la cavalcata da parte di Mkhitaryan. Mkhitaryan e poi Veretuk. Attenzione qui al tentativo di conclusione! Qui si è approvato Pedro. Pedrito appoggia benissimo per Dzeko, che allarga la sua maniera. Attenzione qui a Spinazzola, che viaggia velocissimo. Possibilità di rientrare, possibilità anche di andare al tiro. E poi, attenzione, qui si può andare alla conclusione! Non ci credo! Ma è buono! Si impenna, poi viene messa giù. Ora in mezzo al campo Rabiot, poi l'appoggio per Kulusevski, che si è ritagliato in uno spazio centrale. Poi qui il fallo da parte di Rabiot. Rosso. Rosso, perché è doppio giallo. Rabiot era stato ammonito nel primo tempo. Il fallo sul suo connazionale Veretuk. Possibilità di sviluppare questo contropiede. Adesso la giocata di Dzeko, Dzeko, Dzeko. Largo per Santon. Possibilità di andare a cross. Dzeko! Cesni! Ancora Edin Dzeko! Ha l'opportunità di chiuderla di nuovo. Douglas Costa prova ad andare. Il pallone è largo per Danilo, che prova a proporre il cross. La mette Cristiano Ronaldo. E arriva il gol da parte di Cristiano Ronaldo. La Juventus in 10. Non muore. Deve andare a calciare. Seguiamo Quadrato, che mette dentro questo cross. Il tentativo di rovesciata. Pallone che termina fuori. E allora finisce, credo qui, la partita. Tentativo di rovesciata di Giorgio Chiellini. 2 a 2, Alessio. Abbiamo già commentato tanto una partita che lascia un po' di rammarico.